Non mangiarmi, non mangiarmi! Ma io ho fame! Come ti chiami? Ernest! Io sono Celestine. Noi due dobbiamo fare un discorsetto. Non puoi mangiarmi solo... Nelle favole gli orsi mangiano i topi. Non mi dirai che credi alle favole e non sembri così stupido. Ma io ho fame! Hai fame, hai fame! E secondo te una topolina come me potrebbe saziarti? Ma dai, guardami Ernest, sono pelle e ossa. E poi fa male mangiare nella spazzatura. Ci sono tutte le malattie del mondo nella spazzatura. L'influenza, il tifo, l'epatite, il colera. Ernest, vuoi prenderti tutte le malattie del mondo? No, Celestine, però... Fa vedere. Tartufo freddo, occhio vitreo, pelo opaco. Come sono le orecchie? Sporche. E denti a... Oh no, che guaio! Cioè, sono malato? Non ancora, ma lo sarai. Senti, Ernest, conosco un posto dove ti rimetterai in salute mangiando quello che fa bene per te. Dei marshmallow? Marshmallow, le calecca, torroni, caramelle, pasta di mandorle, confetti. D'accordo? D'accordo. E ora serviti pure Ernest. D'accordo? D'accordo. Grazie a tutti